Ve la posso dire una cosa? Andate a fare in culo, andate a fare in culo, mi avete fatto girare i coglioni, mi avete fatto girare i coglioni, ora basta, sono stanco, sono stanco, non ne posso più, non ne posso più, non ho più voglia di fare video, mi avete fatto, mi avete sfrantumato i coglioni. Ehi, siete indecenti, indecenti, fate risuscitare gente come Candreva, l'avete fatto diventare Beckham, un mix, una fusione tra Beckham e Figo, che cazzo state facendo? Lukaku svegliati, minchia ti sei calato a gol allucinanti, ma che devo dire, è il palo di Barella, ragazzi, ma abbiamo la nuvola di Fantozzi sopra la testa, ma andate a fare in culo tutti quanti, andate a fare in culo. Siete vergognosi, vergognosi, non ci sono parole, non ci sono parole. Basta ragazzi, io vi saluto e ci vediamo domani col paggellone.